Mi chiamo Tiziano Neri, il progetto che presento si chiama Motiviamoci e sostanzialmente si racchiude in una app che può essere installata su smartphone e tablet di qualunque tipo che consente agli utenti di interagire con l'amministrazione comunale attraverso un processo di votazione libera dopo che l'amministrazione ha messo online su un server di sua proprietà o comunque in cloud o in situazioni di questo tipo ha inserito l'ordine del giorno e a quel punto gli utenti possono intervenire con l'amministrazione la stessa app con lo stesso server possono essere utilizzati dall'amministrazione comunale per informare il cittadino riguardo a manifestazioni, eventi, condizioni delle strade, lavoro in corso, cose di questo tipo cioè quindi una forma di trasparenza e di interazione con il cittadino e l'amministrazione